Quale sindaco per Marsala? Marsala è una scelta molto importante quest'anno. Si sceglie tra la tradizione, Adamo, rinnovamento, industria e turismo, dati precedenti, e il popolo, che hanno un golfo. Quindi la scelta è abbastanza attua. Spero che i cittadini marsalesi sappiano quello che vogliono e scelgano bene. E' importante scegliere cosa vogliamo dalla nostra città. Ringrazio. Quale sindaco per Marsala? Si parla di cose, come si chiama? Ombra? Ombra, ombra. Ombra. Adamo, non hai due. A noi ci interessa la sinistra, perché siamo vecchi. Perché combattenti dalla sinistra. Vabbè, qui sono buoni stati. C'è una signora che si chiama Angileri. Anna Maria Angileri. Esatto. Che sei una brava persona. Quale sindaco per Marsala? Ma diciamo che ancora le idee non ce le ho molto chiare, perché non ci sono nomi nuovi. Ci sono delle persone che si conoscono bene. Dovremmo scegliere fra questi. Grazie. Quale sindaco per Marsala? Sicuramente ancora non ho deciso. Ho un po' le deconcuse con la spisa di candidati che si sono proposti. Comunque spero di votare bene e che salga un sindaco che finalmente si occupi effettivamente di Marsala. La ringrazio. Di niente, buonasera. Quale sindaco per Marsala? Adamo. Perché? Perché penso che sia l'unica che abbia le possibilità, le qualità per fare qualcosa per la nostra città. La ringrazio. No. Quale sindaco per Marsala? Non lo so. È chiaro che ancora siamo in piena campagna elettorale, per cui ci devo pensare e devo ascoltare bene varie pareri dei candidati sindaci. Quale sindaco per Marsala? Salvatore Ombra. Quale sindaco per Marsala? Giulia D'Avo. Quale sindaco per Marsala? Gandolfo. Perché? Per le sue battaglie per la legalità. Grazie. Quale sindaco per Marsala? Sì. Quale sindaco per Marsala? Botta. Nove. Quundici nove. Spero Ombra. Perché quantomeno l'imprenditorialità è quella che forse è mancata finora. Lo spirito imprenditoriale potrebbe essere la chiave di lettura per una Marsala nuova. Quindi assolutamente sì Ombra. È la speranza che non si è osteggiato come è successo per altri, insomma. Poi si ritrova senza maggioranza. Cosa che auspico non succeda. La ringrazio. Prego. Quale sindaco per Marsala? Per me nessuno va bene. Perché? Perché ognuno tiene per sé. La ringrazio. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.